Grazie Presidente. Allora, su questo ordine del giorno c'è il CCNL con i rappresentanti di lavoratori della sicurezza che dispone la normativa sulle DPI. Dunque, per quanto ci riguarda, è ovvio che l'azienda non può essere un ordine del giorno dell'Assemblea Capitolina che fa fare uno scatto in avanti su questo. L'azienda deve dare le DPI adeguate a tutti i lavoratori. Visto che questa cosa deve già essere così, tra l'altro io ho il volantino avanti delle organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero, non fanno riferimento a questa tipologia di problematica. Su qualche articolo giornale è assoluto forse qualche cosa, ma in realtà non è questo. Non può essere un ordine del giorno che dà disposizione di dover rispettare la normativa e che i lavoratori abbiano effettivamente tutte le quantità di DPI. Pertanto la maggioranza si asterrà a questo ordine del giorno. Grazie.